Caporale Hans! Presente! Mi sono innamorato di una donna bellissima, praticamente perfetta. E' la Madonna! Ma chi è quella lì? Lui non lo capisce mica che c'è sotto qualcosa. E' un sogno o uno di noi due sbagliato a camera? Però se vuole trasvacuare io. No, che bella mano. Canta. Cantami qualcosa. Ti sarei mica montato la testa? Ci mettiamo a fare gli avventurieri di Casanova adesso. Cosa ci incastri tu con quella pantera? Ma veramente ti faresti Chantal? La moglie del nostro amico Guerrero. Mi dai un mese di tempo e alla prima occasione te la stendo. Porca miseria, come sei bella. Vuoi che andiamo su? No, no, qui, qui. Come qui? Qui. Oddio, brutta non è. Un tipo. Ecco, è proprio vero. Nessuno è perfetto. Così è perfetto. Anche così è perfetto. No, non può essere. No, 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 non può essere. Non può essere. E come l'hai scoperto? Sono cose che si intuiscono. E perché non sei venuto da me? A parlarne con me? Io dovevo venire da te. Tu dovevi venire da me. Io non mi sono mai sognato di andare da una donna a chiedere se è un uomo. Ma io sono una donna. La tua donna. Ecco, vedi, io ho avuto dei rapporti... Con un uomo o con una donna? Non lo so. Sai cosa ti dico, Guerrino? Che tua moglie ha fatto benissimo ad andarsene. Sant'Al, cosa fai? Piscine per strada. Ma che cavolo vuoi? Oh, mi scusi, pensavo che fosse mia moglie. Ma va via, culatone. Aiuto! No, non è niente. Si sente male? Non è niente, non è niente. Ma come niente? Si sta malissimo. Non è niente. Dentro che c'è una donna che sta male, presto. Dentro? Non è niente. Fa il duro, lui. Però l'altra sera non parlavi mica così, eh? L'altra sera avevo bevuto due litri di grappa. Succede. E' successa altre volte. Vuol dire che combino tre o quattro cazzate all'anno. Va bene? Aspettami un momento. Aspettami un momento. Caporale Ars. Presente. Ti amo. Ti amo. Aspettami un momento. Aspettami un momento. Grazie a tutti